Salve, buongiorno, sono il dottor Salvatore Di Meglio, medico chirurgo, specialista in scienza e alimentazione ed uno dei docenti della scuola di alta formazione. La scuola che si interessa di andare a indagare oltre l'apparenza, oltre le cose evidenti immediatamente. È una scuola con docenti di alto rango. Io sono fra questi e tratterò dell'argomento e della connessione fra il cibo, l'intestino, il microbiota e il cervello perché il cibo è una grossa fonte epigenetica per tutti noi. A seconda di quello che mangiamo ogni giorno avremo salute o malattia. Se usiamo cibo cosiddetto spazzatura avremo malattia, altrimenti avremo salute. Vi invito all'iscrizione perché è un'occasione unica, non c'è un'altra scuola di questo tipo e vi aspetto fra i discenti.